E' morto questa mattina, 48 anni, molto probabilmente per un aneurisma cerebrale, Girolamo di Stolfo, ma conosciuto come Big Jimmy, il buttafuori della tv, reso famoso da trasmissioni come Il Grande Fratello e Avanti Un Altro. La notizia ha fatto immediatamente il giro di internet, rimbalzata da un sito ad un altro, e in queste ore sono in tanti, tra gli artisti e i concorrenti dei programmi tv a ricordarlo. Nato di Schitella in provincia di Foggia, Big Jimmy aveva frequentato la riviera romagnola sia come Pugile, allenandosi nella palestra dei Romeo Neri sotto la guida di Elio Gelfi. Fu Pugile, peso supermassimo, l'unico ad aver mai messo il K.O., Alessandro Zuliani, fu avversario di Paolo Vidoz perdendo, per poi, grazie alla sua prestanza fisica, diventare uno dei volti noti della notte romagnola, lavorando come buttafuori in varie discoteche della zona. Tra le pellicole girate, Fantozzi in ritorno, 1996 interpreta il ruolo delle conseglie col motorino, Caraibi del 1998, Così è la vita, 1998 interpreta Crapanzano, poi Fantozzi 2000, la clonazione Villada, L'uomo della fortuna, La Repubblica di San Gennaro, dove interpreta Totore, Ricordati di me, interpreta Genio di Alibaba e Benvenuto Presidente. E' anche comparso nel programma di Paolo Bonolis Avanti un'altro, in cui è stato protagonista in alcuni sketch comici con il conduttore. Nella puntata, andati in onda il 6 gennaio del 2013, di 5 erano protagonisti i bambini, la cui vincita andava, i bambini in una scuola elementare dell'Emilia.